A poco meno di 5 anni dalle precedenti regionali, gli emiliano-romagnoli saranno chiamati ad eleggere il successore di Stefano Bonaccini, passato al Parlamento europeo, il prossimo 17 e 18 novembre. I due principali candidati sono Michele De Pascale, 39 anni, sindaco di Ravenna per il centro-sinistra, ed Elena Ugolini, 65 anni, candidata civica, sostenuta dal centro-destra. Uno dei quattro candidati della PD per Piacenza è l'ex sindaco di Castelvetro, Luca Quintavalla. Tanti amministratori, sindaci e persone del territorio, non solo di Castelvetro ma di tutta la provincia di Piacenza, che mi hanno chiesto di scendere in campo, diciamo così, per mettere anche a frutto la mia esperienza di 10 anni di sindaco, 8 anni di consigliere provinciale, in cui mi sono anche occupato di materie come la pianificazione territoriale, i trasporti, e lo sviluppo economico, che mi hanno consentito anche di conoscere la provincia di Piacenza in tutte le sue articolazioni, le sue caratteristiche. E non mancano le criticità anche per una regione ricca di eccellenze come l'Emilia. Ad esempio la sanità, con i problemi delle liste d'attesa e i tanti temi sociosanitari che sono alla base poi dei bisogni crescenti delle persone. Parlo dei trasporti, sappiamo la vita dura dei pendolari, cosa vuol dire essere pendolari e quindi dobbiamo impegnarci per migliorare le loro condizioni. E poi valorizzare anche le opportunità che Piacenza ha, a partire dal turismo, noi siamo sul fiume Po, sappiamo quante opportunità ancora non sfruttate ci sono. E poi, come ultima cosa, il tema dello sviluppo economico e di qualità. Un territorio che da sempre lamenta scarsa attenzione da parte della regione. E ora che finisca la storia Piacenza-Cenerentola della regione, Piacenza se presenta progetti seri, forti e credibili, in modo coeso, allora sarà ascoltata Bologna. Io mi impegnerò molto per questo. Il PD in Emilia-Romagna gode di una rendita di posizione, ora però le cose potrebbero cambiare. Sono finiti i momenti delle rendite di posizione, ma penso che sia anche giusto. Adesso il consenso va meritato e poter governare una regione deve essere un onore e un orgoglio che deve essere frutto di serietà e di un impegno con capacità di ascolto e con umiltà.